Oggi parliamo di problemi che potete incontrare quando ho cominciato a studiare il siciliano. E credetemi, ci sono problemi assai, ma niente che fossi troppo difficili per noarci insieme. Amone! Potremmo dire che i problemi di insegnare il siciliano sono di due tipi. Chiedi che vengono da lingua stessa e chiedi sociali. Potremmo cominciare con qualche sempre di questa prima categoria. Problema 1 Ti insegni qualche cosa in siciliano e subito senti qualcuno che dice in maniera diversa. Pi tutti che apprincipiano a studiare il siciliano, subito subito acciovano quasi sempre opzioni assai. Dico meglio, per una parola, per preposizioni, per coniugazione e per i tempi di verbi i stessi, quasi tutto avevi più di una forma sola. O più di una maniera sola di pronunziarsi. Puro un tuo standard. Ti faccio qualche sempre. A parola per dire la prima persona singolare io. Semplici, no? Può essere puro io, io, gli, dia, io, ia, eccetera. Fino a 16 sempre in wikizionario. Tutti sti formi sono accettabili no standard. Mi credete? Ma chiss' tu è vero chiù difficili che aspettasse? Sempre in wikizionario, quando coniugiamo pa' terza persona plurale, iddi, si può dire iddi manciano o iddi manciano. Iddi dicino. Eddi dicono. E questo è sempre un standard. Si vedi questo cu' accademia siciliana eppure in tutto il libro impariamo lo siciliano. Forse trovi i formi per fare il condizionale. Ma poi leggi che non c'è il condizionale in siciliano. Lo stesso che ha forma per il futuro. Ma sentisti assai di questo futuro siciliano. Che non esiste. E poi ci sono gli articoli. Lu, la, li o u, a, i. Preposizioni. In, n, n, ta, n, da. Ma chi fu? E via. Acusi. Como sappiamo ciò che è il buon siciliano. Como ama decidere chi forma scegliere. Ligati a questo problema è il nostro problema numero due. I parrati. I parrati sono i diversi dialetti e maneri di parrare un siciliano in tal'isola, in tal'Italia. Ogni parrata ha il suo pronuncio. E qualche parrata ha un nicchi canciamento di grammatica. Per esempio. Avemo appallora morto. A Palermo ha diventato moitto. Ed a Catania ha diventato molto. A parrata sciuri. Può essere ciuri, sciuri o chiuri. Adipende un nicì. Ma un parro chisti dialetti. Da noce si dice sciuri. O a parrata chiù. Chiama. A Ragusa ed intorni ha diventato ciù. E chiama. E tutta la diversità di cui parravo prima. Cui iu, io, iu. O dicino, dicino. Tutti questi formi diversi sono legati a parrata particolare. Ma come tutt'un da vita. No specchio è. Un c'è una parrata. Un è tutto così raso di l'auce parrata. C'hanno messi in esse. Ma chi è stu mimì? Vabbè. Mi si iniziavi qualche particolarità. Per esempio. Hanno la forma condizionale. C'è una esistente in auceabanna. O picca auceabanne. Ma allo stesso tempo. Sempre siciliano. Unì la maggioria della lingua è la stessa dell'auce parrata. E vediamo la stessa cosa con il catanese, palermitano o il circentino. Tutti hanno qualche particolarità. Ma a fine di conti, la maggioria di parole è grammatica e è la stessa. Adunca, per risolvere questi problemi, quando studiate potete scegliere una parrata. Atta scegliere una forma. Atta dire qualche cosa più io. Adunca, scegliete. Non sai se vuoi dire parrano o parrono? Spieta nanna, comu parra idda. Spieto amico siciliano. E un viscantate. I siciliani vi capiscono. Puro iddi su abituati a diversità della lingua. E chiuca parramo e scrivemo, chiuca tutte nuacce ne abituamo. È diversi maniere di parlare o siciliano. La grafia standard ne aiuta capuro. Quando scrivemo o siciliano, scegliamo i poemi più standard. Adunca, uno può pronunziare i palori come vuole, ma invece di scrivere i palori in tante versioni, si scrive sempre lo stesso. PUTTIEMO, si scrive PUTEMO. FUIMI, si scrive FURMI. NDA, si scrive NTA. E quando dico standard, parlo sempre da grafia standard di Accademia Siciliana. Ci sono tanti altri standard. Mi pare che ogni giorno ci spuntano oggi. Ed un puntato più avanti voglio parlare di qualche di questi proiettivi che sono buoni. Ma Accademia Siciliano ci voglio assai compreto. E sempre producono più risorse a diffondere il siciliano nel mondo. Adunca, ora vi scherco il problema sociale di insegnarsi il siciliano. E vi dico, forse questo è il problema più rosso della varietà della lingua. Questo problema viene di più dei cristiani e del siciliano. Tutti hanno più. I siciliani, italiani e americani e di solito le stipendioni sono basate su informazioni pausa. Vediamo qualche esempio. Prima ti dicono che il siciliano è un atto a studiare. Dicono che non merita il tempo di studiare la lingua perché non è utile. La lingua si sta perdendo e che non lo parla. Non c'è motivo di sparare la gente a così. Puro si unì alla lingua ufficiale. Tanti cristiani parlano ogni giorno. Da Sicilia a fuori all'isola sono 5 milioni di parlanti del siciliano. far parte della cultura siciliana fa parte del cuore siciliano. Dicono che la canzone da paese a paese è dunque un'è possibile insegnare sul siciliano perché un'è una lingua unificata. Come vittimo prima i parlati del siciliano non sono acquisti diversi di fare ranni problemi. i cristiani dicono che i risorsi che esistono per il siciliano sono tutti spagliati. Come vi raccontai in un altro video con il libro di testo impariamo lo siciliano. Ed dicono che non c'è un libro per studiare lo siciliano e basta. Vabbè danni qualche cosa, no? Oh, you can't torture me like that, man. You can't torture me like that. Ma tutti questi opinioni negativi possono parlare un po' di menti al studio di siciliano. È difficile sentire tutto il mondo di dire non studiare sta lingua un è degno di studio un è una unì a una lingua vera. Il siciliano unì a una lingua. Non do parla e se parlano non ti capiscono perché parlano una parata diversa. Ma chi può fare? Io ti dico scordatele. Scordatele. Secoli di ignoranza e discriminazione fici tutte le opinioni. Noi c'è a macumatere cuncia sti pensieri. Nostro obiettivo è di canciare la storia. fare un conto nuovo. In Zemmola ne insegniamo a parlare bene bene chi sta bene la lingua. In Zemmola canciamo la sciata la lingua con i nostri sforzi vanno vanno a essere più liberi in siciliano più film eppure seri in la lingua. Il siciliano va a essere parlato unieghie insegnato in scuole bilingue e usato in governo quando diventa lingua co-ufficiale in Sicilia credetemi. Grazie per ascoltare se vi piaccio ammuntatemi e scrivetevi se avete domande suggerimenti correzioni o consigli lasciateli nei commenti ne vediamo la prossima volta assa benerica ciao oh 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 oh